La distribuzione di farmaci nelle farmacie territoriali, oggi dispensati nelle farmacie ospedaliere di aghi, strisce, pungidito, siringhe per i pazienti diabetici all'attenzione dei tavoli regionali. Ed ieri la delibera della giunta regionale che prevede l'accordo nei prossimi 30 giorni tra regione e organizzazioni dei farmacisti, ma questo non ha evitato al PD di attribuire all'Abruzzo la maglia nera sulla distribuzione per conto dei presidi diabetici. La commissione diabetica che loro hanno istituito il 3 febbraio del 2020 non si è mai riunita dopo il Covid. Stessa cosa per la rete diabetologica, stessa cosa per il mancato rispetto di tutti quei medici, psicologi, podologi, dietisti che sono previsti dal PDTA approvato dalla regione Abruzzo di centro-sinistra nel 2016. In Abruzzo si contano 100.000 pazienti diabetici e si registra una crescita significativa anche tra i ragazzi. Una gestione che risulta sotto ogni profilo fallimentare, rincara la dose, il PD. Basti pensare che ogni 45-60 giorni da ogni parte della provincia, compresi i comuni montani, le persone affette da diabete sono costrette a macinare i chilometri per recarsi negli unici tre centri adibiti alla distribuzione dei presidi, a pescare in via Rieti dopo l'ultimo dei cinque traslochi, con tutti i disagi annessi per i parcheggi, all'ospedale di Popoli o a quello di Penne. La Veri dal 29 di luglio del 2020 annuncia che il problema della distribuzione per conto dei presidi per diabetici è pronta. Sono passati altri tre anni. Tantissimi annunci. La verità è che la regione Abruzzo, insieme alla Calabria e il Molise, è l'unica regione d'Italia che non ha ancora questa possibilità per i pazienti diabetici. La regione Abruzzo, tra l'altro, non avrebbe rispettato nemmeno il tetto di spesa. L'assessore Veri fa un riferimento a una delibera, la numero 8 del 2023, ma in realtà questa delibera fa seguito a un grande profondo rimbrotto da parte di AIFA alla regione Abruzzo che ha uno scostamento, cioè soldi in più spesi per quanto riguarda i presidi medici, di 86 milioni di euro solo nel 2021 e il trend è uguale anche per il 2022. L'appello del PD, una riunione con la Commissione Diabete, con tutti i referenti e con le direzioni sanitarie. Sarà l'occasione, chiude Blasioli, anche per riportare all'attenzione la cronica carenza di personale in tutte le diabetologie della regione.